Ma certo! Bisogna invertire le proporzioni! Sono invertendo le proporzioni di farina, strutto e le due polarità, l'esperimento può funzionare! Algo! Algo! Veloce! Aziona la macchina! Veloce! Aziona la macchina! Veloce! Deve girare! È pericoloso, padroni! No, così può funzionare! Abbiamo bisogno di bolle! Tante bolle! Igor! Igor! Padroni! Vini qua! Qui vicino, Igor! Qui, qui! Allora! Vicino a me! Vieni, vieni, Igor! Hai preparato il paziente, Igor? Certo, padroni! Bravo! E la rucola? L'hai presa, la rucola, Igor? No! Ah! Non hai preso la rucola, Igor? No! Ma io ti ammazzo, Igor! Tu vuoi rovinare il mio esperimento! No! Tu vuoi rovinare il mio esperimento! E non è buono! Villo! 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 Non fa la buona! Andiamo! Igor! Attacchi i morsetti! Sì! 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 Perfetto! Collega! Sì, padrone! Energia! Si può fare! Ma l'abbiamo fatto, padrone! L'hovo nuovo! L'hovo nuovo! L'hovo nuovo! L'hovo nuovo! L'hovo nuovo! Grazie a tutti Grazie a tutti